Chiudete le valigie, si va a Roccaraso. Il Bari del patron Luigi De Laurentiis inizia a fare sul serio, dopo i test atletici e le prime sgambate effettuate all'antistadio a partire dal 6 luglio. Nel tardo pomeriggio di oggi i bianco-rossi partiranno alla volta del classico ritiro di Roccaraso. Il primo allenamento in terra abruzzese è previsto per giovedì 11 luglio con Sibigli e compagni che continueranno ad allenarsi a 1.236 metri dal livello del mare sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore Moreno Longo fino al prossimo 24 luglio. Durante i 14 giorni di ritiro sono state programmate anche 4 amichevoli per iniziare a provare sul campo i primi principi di gioco voluti dal nuovo tecnico bianco-rosso. Sul campo comunale di Roccaraso il Bari affronterà nell'ordine San Giovanni Tiatino domenica 14 luglio, Folgore del Finocuri Pescara mercoledì 17 e Kip Campagna sabato 20 per poi arrivare al primo vero test contro il Frosinone ne ho retrocesso in serie B e potenziale avversario dei bianco-rossi nella rincorsa play-off con il match in programma mercoledì 24 luglio nel centro sportivo I Prati di Fiuggi. L'obiettivo della nuova coppia di direttori sportivi formata da Magalini e l'ex capitan Valerio Di Cesare è quello di aver già allestito per quella data una squadra competitiva con un gruppo quasi al completo e con due alternative per ruolo esattamente come è chiesto da Longo durante la sua conferenza stampa di presentazione. In tal senso dopo l'arrivo di Favasuli è tutto fatto anche per il giovane difensore Obaretin classe 2003 in prestito secco dal Napoli che ieri ha svolto le visite mediche e partirà con il gruppo alla volta di Roccaraso. Per l'attacco invece è entrata nel vivo la trattativa per portare Giacomo Manzari in bianco-rosso l'esterno mancino 23enne di proprietà del Sassuolo e che lo scorso anno ha giocato in prestito prima con la maglia dell'Ascoli e poi con quella della Ferralpisalò potrebbe arrivare al San Nicola con la formula del prestito con diritto di riscatto. Inizia dunque a prendere forma il nuovo vari di Luigi De Laurentiis che si presenterà alla prima gara ufficiale di Serie B il prossimo 17 agosto con il calendario ufficiale che verrà invece svelato nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio.